Eccoci in diretta, ciao a tutte ragazze e benvenute alle nostre dirette del martedì. Io sono Sara Diacuna Matata, non mi faccio ancora vedere perché faccio una panoramica delle offerte di questa settimana. Come sapete tutti i martedì ci vediamo alle tre e mezzo su Facebook e ogni settimana cambiamo un po' argomento. Possono essere dirette, nuovi arrivi, filati, novità, sconti, tutorial e quant'altro. Quindi non prendete in impegni il martedì pomeriggio dalle tre e mezzo in poi, durerà una mezz'ora circa. Mi faccio vedere, eccomi qua. Dura una mezz'oretta circa, minuto più, minuto meno, dipende anche se facciamo un tutorial, magari si dilunga un pochino di più, se ci sono domande si dilungano un pochino di più, se no comunque con una mezz'oretta ce la caviamo bene. Le dirette comunque rimangono salvate, sia che sia uno tutorial che sia un'offerta, quindi non vi mettiamo ansia. avete tutta la settimana per ordinare e per procedere insomma con la spedizione e l'unica cosa che poi il lunedì successivo alla diretta finisce tutto, quindi ad esempio le offerte che vi faccio vedere oggi finiscono lunedì 31 ottobre, quindi poi non sarà più possibile ordinarle. Quindi vi vedo che siete già attive, buon pomeriggio a tutti, grazie a tutti, ne approfitto per ringraziarvi dei tantissimi commenti che ci avete mandato dopo la diretta di giovedì sera con la presentazione della collezione, già in tantissime state ordinando i kit, siamo contentissime, grazie e siamo super impegnate stamattina pure con il problema del whatsapp non ci voleva, però vabbè tutto risolto, quindi adesso piano piano rispondiamo tutte. Ok, vedo che siete operative, mi vedete, mi sentite, quindi direi di girare. Ciao a tutti, Marinella, Gabriella, Maria, Luana, Katia, Katie e Gianna Rosa, penso che ci siamo. Ok, ciao a tutte, giro la telecamera. Allora, quindi le promo di questa settimana. Vi faccio vedere, parto da qua, dai cartamodelli stencil, è un po' che non ve li facciamo vedere, sono cartamodelli con gli stencil, appunto, quindi come una mascherina di plastica, come quelle che usiamo per fare le creazioni di Natale, ma in versione pupazzeria, diciamo. Quindi vi faccio vedere tutti i vari stencil disponibili, poi se volete o mandate uno screenshot del video, oppure ci scrivete su whatsapp, qui ci sono anche i numeri, quindi potete dire anche mi interessa lo stencil 57, il 37 e così via. Ok, allora Tati, sì, ho visto che mi hai scritto e appena ho finito ti rispondo. Elena, anche a te ti faccio il totale appena chiudo. Ciao Maria Vittoria e ciao a tutte. Allora, il primo. Prima vi faccio vedere i soggetti e poi vi dico il prezzo, a parte che già lo avrete visto. Allora, questo è ginger cake e pupazzo, quindi per chi non li ha usati mai, con un solo cartamodello riuscite a fare più cose, quindi ad esempio qui fate il ginger, il pupazzo di neve, i dolcettini, ovviamente col tessuto che volete, diciamo che il pannolenci si presta meglio di tutti, ma anche il peluche o il pile va benissimo. Poi abbiamo i sorpresoni con cui potete fare la streghetta, il pupazzo di neve, la rennina e quant'altro. Quindi poi qua c'è scritto tutto dietro e quindi trovate tutte le varie cose da seguire. Poi Creativa a volte fa anche i tutorial, quindi potete vedere anche quelli. Poi ovviamente per qualsiasi informazione ci contattate. Allora, le bomboniere, quindi queste non c'è niente da aggiungere, i cuccioli amorosi, potete fare tutti questi animalotti qui, sono carinissimi, questi anche con il pile e il peluche vengono bene. Poi la bambola dolly che va bene anche come porta lampada oppure come porta accessori da ragazzina. La bambola dolly che invece è un pochino più tipo troll, quindi più tipo gnometta. Ecco il prezzo, 9,90 anziché 15. Sono saliti come tutto, penso, purtroppo, però comunque ve li scontiamo lo stesso e c'è anche un bello sconto. Poi i matitosi invece vengono meno perché partono da 8,50 euro, quindi questi vi facciamo sapere. Verranno sui 6,90 euro perché è più piccolino lo stencil. Poi abbiamo l'ombrellino francese con cui si riesce a realizzare anche un uccellino e un cestino. Poi per ultimo i maestosi piumati con cui si può realizzare la cicogna, il cigno e un'altra cosa che non mi ricordo. Ok, quindi questi a vostra scelta, la fantasia che volete, 9,90 anziché 15 euro. Allora Elena, sì guarda il rosso natale adesso ci arrivo, mi è arrivato proprio stamattina siamo stati invasi dai scatoloni, infatti ce l'ho qui sotto, non ho avuto il coraggio di aprirli e quindi ancora non ho avuto modo di provarlo, però lo farò prestissimo. Comunque è un bel rosso natale, dopo ti mando la foto dal vivo. Ciao a tutte ragazzi, vedo che continuate ad arrivare e io vi saluto ogni tanto. Allora, poi kit creativo Alberino Flores. L'avevamo proposto un po' di tempo fa, alcune di voi l'hanno visto sul sito ed erano interessate e quindi abbiamo deciso di riproporre lo sconto, sempre limitato. Viene 39,90 anziché 45,20, quindi sono più di 15 euro di sconto e include più di 5 euro di sconto, scusate. La base in legno che sarebbe quella per fare l'alberino Flores che vedete in foto, di cui c'è anche il tutorial, più la fustella Flores che adesso vi faccio vedere un po' di utilizzi, ce ne sono tantissimi, più il tessuto a vostra scelta tra il pannolana e il velluto. Potete vedere il tutorial sul nostro canale YouTube. Questa è la nostra fustella che è in esclusiva per alcuna matata, quindi la trovate solo da noi. Da sola viene 28,90 euro, va bene anche per la Big Shot base e ci sono tre petali, la foglia e il cerchietto. Allora, qui abbiamo fatto una copertina un po' mista di quello che potete realizzare. Qua ho qualcosa di già pronto per voi, tipo questo Maxi Flores che trovate, anche questo il tutorial, lo abbiamo realizzato con il tessuto Scottish che vi faccio vedere tra poco. Quindi, questo è con il petalo grande, questo è con il petalo piccolo, poi con il petalo medio, l'ho visto anche un altro tutorial fatto con un cartamodello praticamente preso con il nostro petalo, quindi è questo qui, il petalo medio, questo qua è il divincencioso glitterato e questo è il velluto. Quindi, petalo piccolo, petalo medio e questa è la foglia che ci siamo inventati, la stella di Natale. In tante ci avete detto, ma dov'è il petalo della stella di Natale nella fustella? È la foglia, ragazze. Quindi, penso che mercoledì prossimo, perché martedì è festa, quindi non ci sarà la diretta, però mercoledì prossimo faremo vedere questo tutorial qui. In questo caso lo abbiamo impreziosito il pannolana con la nostra pasta brilligel, che vi faccio vedere tra poco. Questo è un altro progetto di quelli presentati nella collezione, di cui è disponibile anche il kit. Questo è il rosa antico del pannolana, sempre con il polvere di fata come brilligel. Quindi, stella di Natale, questa è una corolla, quella di prima, scusate, il contrario, due corolle e una corolla quella di prima. Quindi, ciancio alle bande, 39,90, avete la base per l'alberino, la fustella e il materiale a vostra scelta, se vi piace più pannolana o velluto. Poi abbiamo anche la versione più grande, che magari vi faccio vedere, dell'albero, perché più o meno la stazza è quella. Adesso lo prendiamo un attimo, giusto per farvi capire, questo è tipo quello della copertina, questa è una base più grande, però, insomma, l'effetto è questo qua. È bicolore, è un'altra cosa, però, insomma, con la fustella Florence riuscite a fare anche questo e tanto altro. Quindi, vi invito ad andare nel nostro canale YouTube, a Cuna Amatata Merceria Ancona, a vedere tutti i tutorial. Poi, grazie Marinella per la fantastica idea della stella di Natale. Mi fa piacere che ti sia piaciuta l'idea, noi ci ingegniamo sempre, quindi se possiamo, ecco, con una fustella avete mille utilizzi, quindi ci fa piacere, ecco, che la sfruttiate anche voi. Il tessuto dell'albero con fiore rosso, c'è anche argentato, questo qui in te indicati è argentato, qualcosa possiamo trovare. Allora, c'è questo che ha una laminatura leggermente, come si dice, questo cos'è? Un argentato, dorato, oppure bisogna andare sul, o il pannolana glitterato che ci abbiamo, oppure il coso, il pannolenci glitterato. Poi, sempre attinente, cerchiamo anche di dare un po' un'attinenza a tutti gli sconti. Allora, questo, Katy, è il pannolana glitterato, quindi, a parte che c'è anche il moddi che viene uno spettacolo, eh? Lo stardust, scusa, che sarebbe il moddi glitterato, quello usato nell'alberino. Però, se lo vuoi proprio argentato, anche questo può andar bene lo stesso. Questo qui, intendi, l'alberello che hai fatto vedere è panna. Allora, questo c'è o oro freddo, come questo qui, o oro caldo, come l'altro. La versione argentata ti direi questo, che è proprio base perla. Poi, comunque, se voi ci sentiamo su WhatsApp, io qua nei bigliettini metto sempre il numero, che così, se non lo avete salvato, lo potete salvare in rubrica. 3, 4, 9, 4, 6, 5, 6, 2, 2, 9, questo qui. Quindi, tornando a noi, tessuto lanato Scottish, abbiamo alcune fantasie, ve le faccio vedere. Il taglio che abbiamo proposto è da 30x145, quindi per tutta l'altezza, con cui potete materializzare anche delle sciarpe, delle borse, quello che volete. Il tessuto è un 80% lana, quindi lo stesso della mantellona, questa qua proposta, che sta andando molto bene. Questa, la mantella, viene una cinquantina di euro ed è già pronta e c'è anche il tutorial di Roberta, dei nastri di Mirta. Comunque, con lo Scottish abbiamo disponibile, un attimo che ve lo apro piano piano. Aspetta, passo lo schermo. Allora, abbiamo questo rosso con il verde leggermente laminato, quindi sul retro l'effetto è questo qua, sul diritto viene così. Poi abbiamo questo che è un barberry, quindi bordeaux e beige cammello. Questo che invece è proprio un barberry, questo ci è rimasto solo questo pezzo qui, quindi c'è solo una vendita, diciamo. Tanto sarà una trentina di centimetri, quindi il pezzo è una cosa del genere. Anche per fustellarlo, per farci degli alberi, potete farci diverse cose. Fiocchi. Fiocchi, esatto. Fiocco di Natale dell'anno scorso nostro era fatto con questi tessuti qua. Questa è la versione ottanio, sempre un pochino laminata, spero che si veda. Poi abbiamo il grigio, grigione, panna, così. Queste vengono benissimo anche le coperte, perché sono super calde. Abbiamo l'ultimo pezzo della nonna di Mirta, quindi il tessuto a mattonelle multicolor. Questo ci è rimasto, saranno due vendite. Quindi anche qui ci potete rivestire una borsa di juta e avete fatto. Poi per ultimo questo che è un boccioso a fantasia, eccolo qua. Quindi avete il bluet, il bordeaux, il giallo ocra, il vinaccia, tutto insieme. Quindi questo 30 centimetri di tessuto, che sarà più o meno come questo, 30 centimetri per tutta l'altezza, vi viene 9,90 euro anziché 13,50 euro, salvo disponibilità e comunque fino a lunedì. Ok, poi ovviamente se volete vedere le foto nel dettaglio ci scrivete. Ok, perfetto ci sentiamo su Whatsapp. Ciao Daniela, buongiorno a te. Poi set speciale vernici. Devo dire sono veramente contenta che sono riuscita a farvi capire il valore di queste vernicette, perché secondo me trasformano un legno abbastanza semplice, anche di quelli economici, in una cosa fatta veramente bene. Quindi sono contenta che vi piace. Ne abbiamo già riordinati, ma già tipo in luce, che sarebbe la versione bianca dei brilli gel, è terminata. Però comunque tornerà, quindi state tranquille, potete già ordinarli. Nel giro di qualche giorno ci consegnano. Allora, Tati, sì, il colore ottaneo è tutto lì, il taglio. Allora, eccoci qua, rulo di tamburi, squillo di trombe. Allora, il set speciale vernici include il metallizzato, che è quello che si dà a pennello, ad esempio il perla. Poi il pennello, che è questo qui, pennello che si dà proprio insieme al metallizzato. Quindi in questo caso la base champagne, poi il brilli gel e la spatolina per dare appunto o a mano, come in alcuni progetti tipo la staccionata che abbiamo pubblicato poco fa, oppure lo stencil, che tra l'altro sono arrivati in tre dimensioni. Visto che ce l'avete chiesto in tanti, ne abbiamo presi tre dimensioni che così accontentiamo tutti. Questa è un'altra versione sull'argento e praticamente potete scegliere la gradazione che preferite. Di metallizzati ci sono l'argento, l'oro, l'oro rosa che è bellissimo, il perla, qui casca giù tutto. Poi di brilli gel ci sono l'argento. Considerate che alcuni colori non rendono, perché questo è scarabeo, quindi sarebbe tipo un verdone scuro, tutto iridescente, bellissimo. Poi c'è questo che è un agrifoglio, qui sembra verde acqua, ma è verde agrifoglio, quindi verde natale. Questo che è il rosso natale, regina di cuori. Abbiamo il bronzo, che sarebbe un oro scuro, tipo quello del bottone, magari questo qua, ve lo faccio vedere. Questo qui è il bronzo. Poi anche quello della cassetta. Poi abbiamo il polvere di fata che invece è questo, che abbiamo utilizzato anche nella nostra collezione. È tipo uno champagne. E poi abbiamo l'oro lucente, che invece è questo qui. E appunto il luce, che è un bianco iridescente, è terminato, ma se non avete frettissima potete già ordinarlo e appena arriva lo inseriamo, insomma. Allora, lo stencil con le stelline parte da 3,90 euro, e stefi, e puoi scegliere te la misura che vuoi. Quindi le stelline intendi, fiocchi di neve? Quello con le stelline arriva, penso domani, e viene 5,50 euro. Eh, esatto. Da qui sembra orribile il bronzo, invece è una figata. Da qui, sì, guarda, sembra un malta. E invece è bellissimo, perché poi quando si asciuga non perdi glitter. Di queste cose ci abbiamo già fatto il tutorial, quindi vi invito a guardarlo, perché secondo me vale la pena. E ok. Poi, allora Gianna Rosa, se prendi più colori, non basta che prendi un set, perché poi con il pennello e la spatolina te ne basta uno, praticamente. Perché poi quelli si lavano e poi li riutilizzi. E tra l'altro è appena arrivato anche questo, sempre da 5,50, con le stelline. Questo non ve l'avevo fatto vedere mai, ma purtroppo non c'ho neanche tempo di farvi vedere le cose. Prendo la diretta del martedì come impegno per cercare di farvi vedere di tutto. Anche questo viene 5,50, qui avete tutte piccole tag che potete estrapolare per fare, ad esempio, segnaposto e quant'altro. Invece i fiocchi di neve adesso non ce l'ho portata di mano, ve li faccio vedere appena riesco. Comunque l'ho pubblicato anche ieri. Queste sono le tag di Rencalic da 60 centesimi che abbiamo dipinto di oro rosa e poi con lo stencil del fiocco di neve. Poi, tornando a noi, set Pannolenci fantasia natalizia. Allora, questi qua sono dei set di Pannolenci. L'abbiamo proposto in primavera con le fantasie dedicate. Ho visto che vi sono piaciuti tantissimo. Quindi, visto che sono tornati alcuni colori di Pannolenci che mancavano, abbiamo preparato dei kit che a me, come sapete, mi piacciono i set, mi piacciono le cose che si abbinano tra di loro. Quindi, appena a posto, ve li propongo. Questo set include la fantasia 50x40 più due tinte unite 50x45, tutto a 5,50 anziché 6,90€. Quindi, tutti e tre vi vengono 5,50€. E avete già praticamente il progetto pronto da realizzare. C'è la fantasia Ginger con il Bordeaux e il Tortora. Questa fantasia Orsetto Rosso Merry Christmas, a cui abbiamo abbinato il bianco e il verdone. Cerco di prenderlo. Adesso faccio il giro che almeno mi faccio inquadrare. Ecco qua, almeno ho due mani. Quindi, qua ci abbiamo messo il bianco della neve e il verde dell'alberino. Poi, l'orsetto rosa con il vinaccia della scritta e il verdone dell'albero. Anche questo mi piace molto. Per gli amanti degli angioletti abbiamo questo angioletto malva con il lilla sfumato e il verde salvia. Quindi, ovviamente, ho ripreso i colori esatti delle fantasie. Questo qua, grigio e rosso, che sta molto bene. Devo dire che ho rivalutato il grigio da poco tempo e poi magari vi spiego perché nelle storie che magari è un po' più modo di chiacchierare. Quindi, questi sono scrittine di auguri con i ginger, il pan di zucchero e la calza della Befana e quant'altro. Quindi, grigio perle e rosso. Poi abbiamo l'agrifoglio sul bluetto ottanio con il jeans e il rosso. Quindi, questi poi, come li mischiate, li mischiate bene. Vedete? Poi, di angioletti abbiamo anche questi qua, beige, con il cammello e questo che è un un felce, un muschio, un colore, una via di mezzo, un po' particolare, molto bello, moderno. E infine abbiamo, con l'ottanio, anche gli angioletti. Quindi, con il tortora e il blue jeans, sempre l'abbinamento abbinato. Anche qui, se volete, potete fare una screenshot dei set che volete. Vengono tutti 5,50€ l'uno. Quindi, tre pezzi a 5,50€. Poi, non ho visto i commenti... Sì, Katie, quei brilli vanno bene anche sul pannolenci. Ci ho fatto una diretta dedicata qualche settimana fa. L'effetto è questo qui. Non perdi glitter. È a rilievo. Lo potete usare con la spatola, come in questo caso, sui tessuti, su dove volete. Guarda, io amo queste cose. Quindi, l'abbiamo usata un po' ovunque. Questo, nello specifico, è il metallizzato che si dà con il pennello e questo è l'effetto della spatola, con il brilligel. Ehm... Poi... Ah, beh, Tati, pensavo che sembrava orribile il bronzo perché dentro il barattolo non è il colore reale. No, vabbè, comunque il bronzo è leggermente più scuretto dell'oro lucente, ma neanche troppo. Ehm... Stefania, i Ticas, vanno bene? Che cosa? Ehm... Non t'ho capito? Guarda, se me lo commenti oppure ci sentiamo su Whatsapp, visto che mi avevi scritto e dopo ti rispondo anche a te. Cerco di fare il possibile. Allora, nastro velluto, alto 5 cm. Questo veniva 3,40 al metro e lo scontiamo a un euro... Cos'è? 3,40 era quello più basso, però... Ah, veniva... Pensa a te. Veniva a 4,90 al metro, abbiamo pure sbagliato. Quindi, un euro e 90, ormai l'ho detto. Ehm... Quindi è tipo meno di... Cioè, più del 50% di sconto. È alto 5 cm. Approfittate prima che rinsaviamo. Ehm... Viene. Quindi un euro e 90 al metro. Potete scegliere il colore che preferite. C'è il turchese Tiffany, il verdone, il verde muschio, il rosa baby, rosa antico. Questo è un magenta, un fucsia scuro. Diciamo magenta, chiamamolo così. Ehm... Il rosso, il cammello, il beige e il nero. Ad esempio, potete fare la rosa... Ehm... Come si chiama questa? Del nord, mi pare. Comunque c'è... Se volete, insieme all'acquisto del materiale, vi mandiamo anche il link del tutorial. Ehm... Insomma, viene un euro e 90 al metro. I colori sono tanti. Ehm... Noi ci abbiamo fatto anche una collanina. Viene comunque carina. Questo è un fiore imbottito. Ehm... La regale, se dovrebbe chiamare. Ehm... Gabriella, in Ancona ci troviamo in zona brecce bianche. Quindi, eh... Vicino alla chiesa San Gaspare. Poi comunque con il Google Maps ci trovi tranquillamente. Ehm... La via precisa è via brecce bianche 53D. Dove ci sono dei portici, dove c'è il veterinario, un bar, ehm... Boh, una pizzeria, una lavanderia, un po' di negozi. Ehm... Poi comunque se ci contatti su Whatsapp il numero è questo qua. Così ti diamo tutte le indicazioni con gli orari e tutto. Ok? Ehm... Allora... Set 3 tubolari a fantasia. Sono 3 tubolari. Abbiamo già proposto noi abbinamenti. Se vi interessano abbinamenti diversi, contattateci. Ehm... Vengono 5,50€ anziché 6,60€. Tutti e 3. Anche qui il set. 5,50€ anziché 6,60€. Ehm... Ad esempio, questo abbiamo il grigio con le stelline. Il grigio con la righina laminata. Il rosso con la righina grigia. Il rosa. Questo c'è solo rosa, quindi lo chiamo rosa. I cuoricini beige e rossi. Il fiocco di neve rosso. E eh... L'azzurro che ha anche il tortora. Quindi questi potete scegliere voi. I colori vengono 5,50€ tutti e 3. Ehm... Per la rosa quanto ne occorre? Quale rosa? Già una rosa questa qui o questa qua? Questa ce ne vuole un pochino di più, però comunque fa molto volume anche il fiore. Quindi non c'è bisogno di grande materiale. Ehm... Elena sì, i fiocchi li vengono bellissimi. Li puoi fare tranquillamente. Anzi, sembrano quelli... Ce l'avevo quando ero piccola in un vestito, forse della comunione. Questo fiocco rosso in un vestito, me lo ricordo ancora. Ehm... Ok. Poi, ultimo ma non ultimo. I materiali di Mirta sono le lettere in legno, alte 7 cm. Quindi questo è un esempio. Sono già bordate. Sono spesse, sarà un 3 mm più o meno. E... Sono belle così. Oppure, visto che c'è l'offerta delle vernici, si possono tranquillamente anche dipingere. Che vengono una figata. Ehm... Il prezzo di partenza è 4,30 euro e lo scontiamo a 2,50 euro cada una. Quindi, se volete scrivere auguri, il nome della famiglia, benvenuti, eh... Bo, Noel, Joy, le abbiamo tutte. Qui c'è una parte e qui c'è la seconda parte. Anche la è commerciale. Quindi, magari, le iniziali lui e lei, in un fuoriporta, ve la butto lì. Sono lettere da 7 cm. Quindi le potete utilizzare come più vi piace. E vengono 2,50 anziché 4,30. Sempre fino a lunedì. Quindi... Considerate poi che martedì è anche festa. Quindi... Ehm... Vi chiedo, ecco, di... Se riuscite di concludere il prima possibile. Ehm... Questi non l'ho fatti vedere. Non è vero che è l'ultimo. Scusate. Allora, qua abbiamo il tessuto di peluche double face. Quindi, dritto rovescio. È un peluche morbidissimo. Lo potete utilizzare anche per fare delle copertine, ad esempio. Ehm... I colori ancora sono questi. Tenete conto che qualche colore scarseggiamo, tipo questo. Ehm... Quindi eventualmente vi invito a... A fermarlo intanto. Ehm... Comunque i colori sono. Celeste. Questo è un biscotto. Questo diciamo cipria. Latte. Azzurro. E rosa baby. La misura è da 50x50. Il prezzo di partenza è 4 euro. Lo scontiamo a 3,20 euro. Quindi potete scegliere il colore che volete. La misura, ovviamente, se vi serve per una copertina. Poi ci sentiamo. Vi facciamo comunque lo sconto in proporzione. Tipo 100x75. Non so quanto viene. Però ve lo... Lo facciamo in proporzione. E... E quanto via. Poi, ultimo ma non ultimo. Ci siamo sentite... Ehm... Così. Non in obbligo. Però abbiamo voluto scontare anche il buccioso. Visto che nella nostra collezione dell'autunno. L'abbiamo proposto e utilizzato abbastanza. E... Mi sono scolata del tiragiu. C'è anche l'ocra. Questo qua. Che non vi ho fatto vedere. Il buccioso nasce come tessuto eh... D'abbigliamento. Io, personalmente, ho visto una giacca fatta con questo tessuto qui. In una vetrina di cose che non c'entrava niente. Di abbigliamento. E... E viene veramente bene. Quindi, anche per chi cuce... Ehm... Può utilizzarlo tranquillamente. Anche qui proponiamo tagli da 50 x 45. Quindi tipo quello che abbiamo utilizzato nella nostra zucca bucciosa. Ma potete scegliere voi anche di prendere misure maggiori. Il prezzo di partenza è 4,50. Lo scontiamo a 4,90. Il numero è sempre questo qua. Vi faccio vedere i colori. 4,90. L'ho detto. C'è. 6,50. Mi sta intrecciare il cervello, ragazze. Scusate. Allora. Grigio chiaro. Grigio scuro. Nero. Verde bandiera. Verde scuro. Questo è un verde bosco. Tipo quello del... Del tralcio. Bellissimo. Questo è un rosa antico. E questo è marrone. Beige. Cammello. Blu. Avio. E celeste. Questo qui, ad esempio, lo potete utilizzare anche per le creazioni da neonati. Sì. E... Va bene Gabriella. Sei in modo di passare volentieri. Che così riesci a toccare anche tutto un po' con mano. E... Paola. Lunedì. Che è prefestivo. Siamo aperti? Stiamo valutando. E... Adesso... Vediamo. Martedì. Sì. Primo novembre sicuramente saremo chiusi. Però... Adesso vediamo. Lunedì. Perché siamo aperti in teoria solo mezza giornata. Quindi... Penso che faremo ponte. Però comunque poi ci sentiamo. Non so se mi avrei già scritto. Ho visto un messaggio su whatsapp. Non so se eri tu. Eh... Poi comunque appena riesco ti scrivo. Ok. E... Allora. Quindi il buccioso ha anche altre... Eh... Altri utilizzi. Come questo. Il taglio è da 50 per 45. 4,90 euro anziché 6,50 euro. Per chi chiedeva... 12. Che misura entra il tubolare. Ehm... Questo è da 12 centimetri. Quindi il pua rosso. Ma anche tutti gli altri. Fino a 12 centimetri ce la fate a farci delle sfere. Poi questi vanno benissimo anche come... Eh... Zampine, braccine, vestiti vari. Quindi potete utilizzarlo come... Preferisci. Eh... Sì. Tatti. Ci avremmo bisogno un po' di riposo. Iniziamo dai numeri. Ehm... Adesso vediamo. Comunque ci sentiamo Paola. Va bene. Ehm... Comunque sabato mattina siamo aperti. Quindi se magari hai modo... Già di Natale siamo... Siamo pieni. Non riusciamo a togliere i glitter da per terra della botanica. Quindi... Siamo in pieno clima natalizio. Ehm... Niente ragazzi. Io penso di avervi mostrato tutto. Ehm... Spero che le offerte vi piacciono. Credo di sì dai commenti. Comunque... Per qualsiasi informazione, dubbi, domande... Contattateci sempre su Whatsapp. Che appena riusciamo vi rispondiamo. Ehm... Purtroppo ci spacchiamo in quattro. Ma le giornate sono sempre da 24 ore. E non sempre riusciamo a chiudere tutti i messaggi della giornata. Ehm... Niente. Le spedizioni le abbiamo fatte. Quindi ogni giorno partono tantissimi pacchi. E ne prepariamo tanti altri. Quindi... Non abbiate fede che non vi abbandoniamo. Grazie a tutti per sceglierci. Ehm... Niente. Ci vediamo... Penso mercoledì. Però comunque vi faccio sapere. Grazie a tutti e un bacione. Buon pomeriggio.